Compagnia Atte, presenta a Onori al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Savona. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Innovazione, ricerca, impiego di mezzi e procedure all'avanguardia nella compartecipazione al mantenimento della sicurezza pubblica sono solo alcuni dei cartini della nostra istituzione, che si innestano su un modello organizzativo che continua a mettere al centro della missione il rapporto con la popolazione, forte della meticolare struttura presidiaria delle stazioni, del secolare rapporto di Fuscia con i cittadini e delle sue eccellenze specialistiche in ogni settore di attività. Coltivate la cultura dell'essere facendola prevalere sull'apparire. Non sono gli slogan che ci fanno forti, ma azioni costanti dettate da intimo convincimento che trovano riscontro nello sguardo della gente. Grazie a tutti!